Questo è il lago di Allege, vedete? Che meraviglia! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Per la neve, le cime Vedete la neve sulle cime E' il lago di Allege, vedete? Guardate che meraviglia! 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 E lì si vede, si vede praticamente le cime della civetta, vedete? Vedete le cime della civetta, stupendo. Sempre la meraviglia del lago, vedete? Qui siamo in centro, Alleghe, guardate che meraviglia. Vedete la chiesa di Alleghe? Stupenda. Vedete il campanile con l'orologio. Guardate, sono le 11.25, stupendo. Vedete la chiesa con il campanile. Stupendo. Siamo proprio in centro, Alleghe. Vedete? Hotel alle Alpi. Sempre la chiesa di Alleghe, panoramica unica. Vedete? 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 molto. Vedete? Quella bellissima. stupendo e lì vedete il civeta le punte del civeta vedete che meraviglia bellissima lega dai così avete visto il lago e anche il centro hotel centrale qua trovate i souvenir vedete bellissimo e chiudo con la chiesa ciao 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 ciao